Andiamo alla bilancia, altra giornata bellissima, con una luna che vi rende più sensibili, più disponibili verso gli altri e quindi l'amore chiaramente ne beneficerà di questo transito lunare nel vostro segno. Venere parla di una ricerca anche dell'edonismo, quindi della soddisfazione dei sensi sotto tutti i punti di vista, potete farlo, anzi approfittatene perché questo Marte nel segno del Capricorno ogni tanto porta qualche piccolo problema a livello familiare di coppia e quando ci sono questi transiti bisogna approfittarne proprio per cercare di chiarire, di appianare le eventuali difficoltà.